Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo oggi una maglia che avevamo già visto in precedenza, trovate qui in alto in recensione. Questa l'avrete riconosciuto ovviamente, è la prima maglia del Manchester United, una versione player in manica lunga. Grazie a tutti. La maglia mi piace tanto. Le versioni manica lunga le sto prendendo da un po'. Devo dire che non le ho mai prese prima, ma mi piacciono molto perché sono una valida alternativa in questi clima un po' più rigidi. Il costo lo vedete qui sopra, questo è veramente strabiliante. Qua sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché insieme a questa troverete tantissime altre offerte che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, vi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di mostrarvi maglie come queste tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima.